Ciao, eccoci giunti alla tredicesima lezione del corso per imparare ad amarsi. In questa lezione tratterò un argomento che potrebbe apparire superficiale, ma che in realtà è comunque importante. Quello di creare uno stile. Crea un tuo stile, un look, un tuo look, un tuo abbigliamento che ti contraddistingua. Sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Devi creati un look personalizzato, in modo tale che tu possa sentirti a tuo agio. Con questo abbigliamento, con questo stile, ti possa sentire sexy, interessante. Valorizzati. Non prendere le cose così a caso. Cerca di curare anche ogni dettaglio fisico. E il tuo stile te lo puoi curare anche attraverso l'esercizio fisico, attraverso la valorizzazione del tuo corpo. Quindi è molto importante anche modellarti un corpo, magari attraverso esercizi in palestra, attraverso uno sport. Insomma, avere tonicità, avere elasticità è molto importante. E poi è molto importante anche il contenitore, quindi l'abbigliamento. Ma non deve essere un qualcosa di particolare o di costoso legato alla moda. Deve essere un qualcosa di tuo personale, che ti identifica, che ti dà tranquillità in cui stai bene. Per questo video è tutto. Il prossimo appuntamento è il prossimo sabato alle 15. E se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. A partire dai 20.000 iscritti, il nuovo servizio streaming live. Per cui iscriviti al canale e fai iscrivere al canale. Ciao! Ciao!